Tanto li abbiamo portati qui per voi, sono a vostra disposizione, quindi se avete delle domande, siccome abbiamo un solo microfono, evito di passarvelo, alzate la voce e lasciamo il microfono a loro per rispondere. Alzate la mano se avete delle domande, le cose carine, e poi dopo, appena finiamo, sono qui per foto e autografi, quindi non c'è problema. Allora, cosa volete chiedere? E vi rispondono. Allora, prima domanda, chi rompe il bianco? Restai conci. Allora, una curiosità. I figli d'Italia, sarà? Dura, 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 dura. Io lo conosco intanto, lo distraziamo. Per dire la verità, non è fosse mio. Non posso dirlo, perché mi ha chiesto ai papà di non dirlo, e se verrà tutto messo in serie anche il figlio, questo non lo so può dire neanche, perché lo scrittore e ancora, i sceneggiatori non sono sicuri su questo tema. Quando tornerà lo trovo a Alessandro, lo spero. Ti sarà anche tu? No. No. Pa, pa, parlo io, penso pa da me, tornerà in serie.